Benvenuti in questo nuovissimo video Questo è lo speciale 100 iscritti Grazie mille a tutti per i 100 iscritti Non pensavamo di arrivarti in così poco tempo Quindi grazie per il supporto Grazie davvero ragazzi siete i migliori Siete i migliori In realtà adesso ci abbiamo visto un po' di giorni a fare questo speciale Perché avevamo pensato Però è successa una cosa Per cui abbiamo cambiato tutto E quindi abbiamo fatto un nuovo speciale Comunque adesso siamo un po' più di iscritti 106 se non sbaglio Vabbè però comunque grazie Infatti ci sono arrivate due lettere Queste sono le lettere dei nostri fan Che praticamente ci hanno dato i nostri amici Dicendo che questi erano Di altri loro amici Perché praticamente ragazzi Adesso vi spiego Noi volevamo fare questo speciale Avevamo pensato da due o tre giorni Perciò non abbiamo arrivato video E ci dovete scusare ovviamente Però ci sono arrivate appunto queste lettere Che tra l'altro sono fatte veramente bene E quindi avevamo pensato di cambiare lo speciale E farlo in questo modo In questo modo ragazzi Voi continuate a seguire Ci lasciate un like Scrivetevi al canale E commentate sotto i commenti Cosa sono gli episodi Di questi 100 iscritti Ragazzi così Arriveremo proprio a 200 A 200 Scaleremo la classifica Scaleremo le nostre aspettative Ok io leggo questa Tu leggi questa? Va bene Inizio Qua c'è lo scotch Giallo Ok Allora credo che Ok si è un po' Si è un po' scassata Ovviamente ragazzi Queste lettere le conserveremo Perché sono bellissime Sono belle Una l'ho ruminata Scusami Ok qua c'è il 9 sopra Molto fatte Molto belle queste lettere Che si apre Ok allora C'è un bigliettino Questo lo leggo io Allora Come si Ok Ok Allora Ciao frago Lui mi è stato 111 Sono un vostro grande fan Mi seguo dai 20 iscritti Mamma mia Già questo C'è tanto tempo Già questo ci ha fatto Ci ha riso felici Ok A proposito di iscritti So che sei arrivato a 100 iscritti Bene bene È bene Grazie 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 Vedo che non l'avete ancora fatto Lo speciale Ci stavamo Sì E quindi probabilmente Se ci ha scritto questa cosa Il che vuol dire Che ha fatto sta lettera Uno o due giorni Prima Cioè mentre noi Non stavamo facendo video Perché me l'ha dato Tipo Vabbè il mio amico Non mi ricordo Quanto me l'ha dato Allora Vedo che non l'avete ancora fatto lo speciale E quindi ti do questa lettera Affinché tu possa Farci il video Dello speciale Eccoci qua Un saluto Da questo Michele Sono Michele Vengono da Napoli Spero che tu possa leggere questa lettera Da Michele Grazie mille Michele Grazie Grazie Ovviamente ragazzi Nei commenti Se voi che avete mandato queste lettere Nei commenti State guardando questo video Nei commenti scriveteci Se siete voi Così vi saluteremo E vi metteremo bel cuore Quindi Letta La prima lettera Di Mattia Ovviamente ragazzi Questa lettera Ce la concepiremo Quindi mettiamo Io apro la mia Non la voglio ruminare Quindi faccio piano Stava facendo un po' coperta Tra l'altro ragazzi Ci ha fuori Sono bellissime Cioè qui Ci ha fatto Il nome nostro Fragone 611 E Probabilmente la sua fascia Più o meno L'ha provato a disegnare Quella vi faccio vedere Il logo di Youtube Un pollicione E un'iscrizione Ma quando iscriveteci E la campanellina Ovviamente ragazzi Voi fate Lasciate like Scritto nel canale Attivate la campanellina E commentate E tra l'altro Qui c'è scritto Il Fragone 612 E 120 100 iscritti E il nostro logo Cioè i due gamepad Bellissimi Quindi apriamo Questa bellissima lettera Io non tolgo lo scoscio Perché lo voglio rimanere E qui C'è la lettera Bellissime Queste Buste Sono veramente fatte bellissime Quindi 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 Ok Abbiamo fatto un sacco Di disegnini Allora Vediamo prima il disegnino Con la logo di Youtube Con diciamo Decoriandoli Per 100 Ovviamente 100 iscritti Qui c'è scritto Giovanni Penso il nome suo Sì sì è il nome suo Ok Allora Ciao Sono Giovanni E vengo da Aversa Spero che tu possa leggere Questo biglietto Per i 100 iscritti Un saluto A tutta Youtube A tutta Youtube Lui più o meno Già credeva Che l'avremmo fatto Il video Da tutta Youtube Italia Ciao e auguri Per i 100 iscritti Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie carissimo Giovanni Chiudiamo la lettera E se è inglese Significa Rivelazione della faccia Infatti Noi Volevamo fare Il speciale De 100 iscritti Che ci Facevamo fare Il face reveal Però poi ci abbiamo Pensato Quindi volevamo farlo Più in là E' una cosa Abbastanza importante Ragazzi Però vabbè Voi se vi iscrivete Lasciate like Magari ai 200 300 O più avanti Faremo questo Face reveal Alla fine lo faremo Però ci abbiamo Pensato Vi spiego un po' La storia Di questa cosa Perché all'inizio Noi Già non abbiamo Fatto il video Del face reveal Che Prima che ci arrivavano Queste lettere Prima che i nostri amici Dicevano Guarda che ci sta venendo Un fan tuo Che ti sta dicendo La lettere Prima Già l'avevamo fatto Il video del face reveal Noi l'abbiamo caricato Perché lo dovevamo caricare Appena i 100 Cioè noi l'avevamo fatto Prima Tipo è 93 94 E Quindi L'abbiamo fatto Prima Già l'avevamo caricato Ovviamente E Niente L'abbiamo fatto Questo video Poi I nostri amici Ci hanno detto Questo fatto Stava venendo fan Che ti stava mandando La lettera A mio amico E Quindi Abbiamo Levato il video Alla galleria Questo prima ancora Di caricarlo E Abbiamo Pensato Di mettere Queste lettere Voi ragazzi Ovviamente Nonostante i 100 iscritti Continuate a seguirci Lasciate like Suscrivete al canale Commentate Cosa mi pensate Di questi 100 iscritti E Niente Questa è la storia Del face reveal Che volevamo fare Quindi spero Ovviamente ragazzi Lo faremo Lo faremo Lo faremo Più in avanti Però lo faremo Perché lo vogliamo fare davvero Rifaremo il video ovviamente Però Ragazzi Voi mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like Vogliamo ringraziare ancora Questi due Che ci hanno dato Queste Perché Giovanni Grazie davvero Di cuore Ovviamente Se Voi Sapete Disegnare Molto bene Sì E' bellissimo Questo due Se Se voi state guardando Questo video Diteci nei commenti Se siete voi Se non siete voi Che Ditecelo Quindi ragazzi Like Iscrizione E Noi ci vediamo In un prossimo video Grazie ancora Grazie ancora Per il 100 Iscritti Ciao